. Up Shenzhen, out Lorenzi. I risultati di Chengdu. . Si ferma immediatamente, al secondo turno, al primo aveva goduto di un bai, l'avventura sul cemento cinese di Shenzhen di Paolo Lorenzi. . Tra le teste di serie non sbaglia invece David Goffin, numero due del seeding di Shenzhen, che si impone in due set sul russo Evgeny Donskoi, bagnando così il suo esordio con una vittoria. . 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 La testa di serie, la numero 6, estromessa dal torneo è quella del britannico Kyle Edmund, arrestosi al terzo set allo statunitense Yari Donaldson, mentre avanza il numero 5 del seding, il giapponese Iwiki Sugita, che non lascia scampo al brasiliano Tiago Monteiro. . Edmund, 6, Donaldson 066146. Estomino, Cascianova, 3, 6362 Sugita, 5, Monteiro 6461. Lajovic, Ramos Vinolas, 2, 6263. .